Bella vecchi trapani ed eccoci qui con un nuovo video ed oggi vi annuncio che sarà un video epico Veramente ci siamo divertiti tantissimo a registrarlo Ragazzi abbiamo fatto un video su facewap dove ci scambiavamo le facce e tipo non potete perdervelo Perché Mateusz ovvero Xenic sembrava Pablo Escobar Io sembravo, lo so, uno che si era fatto una plastica Ma poi abbiamo usato anche tipo le facce dei bebè, di Obama Quindi non potete perdervelo, ne abbiamo impersonati tutti quanti Perciò ragazzi lasciamo 5000 like se volete vedere un prossimo video E ricordatevi che ogni giorno uscirà un video alle 15 Vi lascio al video Aspetta, aspetta, tu devi parlare e io devo muovere la bocca quando parli te Vai Eh ma la muovo pure io E' una cosa stranissima Ehi Non la devi fare te però Eh no perché io voglio farlo su te, capito? Come funziona Per quello parli tu quindi tu fai vedere che te te muovi Capito? Ah con la faccia tua Eh Ah ok Quindi c'è Non devi dovremmo farlo così senza farmi vedere E' orendo Ciao ragazzi, siamo i Granatz Siamo tornati qui con un nuovo video Oggi siamo su Facebook app che è molto figo Cosa succede? Cosa succede questo? Tu madre è un po' là Ah Ah eh 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 Aspetta, io sono Matteo, io sono un mexicano Oh porco di vero Pablo e Scobar E vengo da Colombia Plata o plombo Plata o plomo Con veramente brutto Con face swap Eeeh Po' wrath Mah eh 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 Ehi che è? Oddio guarda che figlio Guarda guarda a me Quanta. Quanta hai? Guarda qua guarda qua Si vede che fanno su giù E' però era buona sta canna Non so a te ma a me mi ha fatto un certo effetto La cifra si Lascia perdere sto a fare i draghi Cioè comunque a fine era buona Perché a me mi ha fatto un po' Un po' effetto a te No no questa è inquietante ti giuro Comunque sai che è successo ieri Ieri si parla di allo stadio L'hiamo fatto L'hiamo caricato L'hiamo proprio caricato E chi gli hai fatto un bel je Non gli ho fatto niente No ma che sei brutto L'hiamo caricato si fa capire Si l'ho alzato il coro Sì Cosa che c'è che io Cosa che parlo Paolo Brogio Mi sono stato a mezzucone No io non sono stato a mezzucone ma perché parla così No c'è alla fine Cosa che c'è Che da un pugno in faccia E' un po' riuscito Vedi Paolo Ha detto vedi Paolo No perché alla fine io comunque A me mi piace fare questi video Mi piace tantissimo Come dice Costanzo Non sta così però State buoni State buoni E quindi Quindi gli ho detto Gli ho detto Avevo questo Ma poi gli ho detto Gli ho detto Gli ho detto Gli ho detto Favamo così Che cazzo Che cazzo No perché io dico Ma c'è bello Vedi che dico Mi si apre la bocca E mi dice Mi si apre la bocca Mi si apre la bocca Mi si apre la bocca E poi diventa Diventa Mi si apre la bocca Mi si apre la bocca Questa è bucciore E poi quando fai la cacca Si apre così No Che poi si ritrae Sì Sì Possiamo Non va a dire Ciò che sto dicendo Ma Dio Io amo l'America E io Io sono Annalisa Brutto brutto Io sono Annalisa E ci ho solo io Perciò non rito Però la cosa figa è questa Guarda Vedi Come ti giri Io ti guardo Come ti giri Io ti guardo Guarda Ti sto sempre a guardare Eh Non proprio però Ti sto sempre a guardare Guarda che sto a fare Guarda Si però certo I baffi mi li poteva fare Leonardo Porca droga Guarda che cazzo Si Porco giù Raffa 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 Ehi Sono bello Raffa 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 Hanno mandato il nostro latte Porca droga Poi si è girato col trucco Che cazzo le guardi No questo è ciubbeca non è in cane Fidelo Ciubbeca Pi o meno ho stato io con l'utrattore e lo guidavo io è colpa mia e tu io no non ho stato io è stato lui lo stato io cazzo vuoi davidamiate che ne ha visto un bebe grande e ne ha mai visto un bebe che cammina ne ha mai visto un bebe che ti parla così a barba eh dai viaggi viaggi che fai a mettere il latte bollente mamma mia cioè ci devi da venire hai capito? si ci vengo ci vengo ci vengo ci vengo comunque ragazzi questo nuovo video è finito spero che questa volta sia andato tutto bene comunque si è andato bene lo avete visto fino a mo quindi non c'è bisogno quello che lo dica perché come ho detto anche nel video di lunedì l'altra volta era andato così si era bloccato speriamo vi sia piaciuto se vi è piaciuto magari volete che facciamo un altro video con qualcun altro cioè ci scambiamo la faccia con qualcun altro iscriveteci qua sotto con chi volete che lo scambiamo e arriviamo a 5000 like come sempre per un prossimo video da grazie è tutto ciao